sta arrivando la mia rivoluzione o la guerra forse è meglio la guerra la guerra è teoricamente quello che sto facendo la vendetta o la vendetta la vendetta alla fine è una vendetta non è una guerra quindi la vendetta lo devi dire, hai capito cosa? sai che tu lo devi dire, hai capito? ah si, devo dire lo script che cazzo stai facendo? fastidio, mi dà un botto fastidio no, era il pattern no, no, devi stare adesso fa cagare oh, così si che mi piace la vendetta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.